E' finito in ospedale solo per aver fatto il bagno al mare. E' la storia, aglietto fine fortunatamente, di un bambino di due anni di Vasto e dell'odissea di un'intera famiglia tra gli ospedali di Lanciano e Pescara durata un mese, da quando il 10 giugno scorso, dopo aver ingerito l'acqua del mare in località San Tommaso a Vasto Marina, il piccolo ha iniziato a sentirsi male con febbre alta e tracce di sangue nel pannolino, sintomi di una gastroenterite emorragica. I genitori hanno subito voluto approfondire la questione. Il papà Stefano ha presentato un esposto alla procura di Larino in Molise, perché inizialmente pensava che l'inquinamento arrivasse dal fiume Trigno. Invece, a 200 metri dal punto in cui il figlio ha fatto il bagno, ha scoperto uno scarico fognario a cielo aperto. E dalle analisi condotte privatamente, è emerso che in quel punto sono presenti alte concentrazioni di escherichia coli, streptococchi fecali ed enterococchi batteri altamente infettanti. Il fatto che questi batteri, fuori dal loro ambiente, non vivono. Quindi se li abbiamo trovati vivi, vuol dire che gli scarichi erano recenti e sono continui. Allora, fino a quando lo scarico si tratta di un ricagnolo d'acqua, inquina solo la battigia. Però il problema è che poi non è solo un ricagnolo d'acqua, perché lì, magari durante la notte e in altre occasioni, visto che lo scarico è continuo, magari possono arrivare grosse quantità e ti inquinano completamente il mare. Quindi, teoricamente, una persona dovrebbe stare attenta a vedere se lo scarico ha scaricato o no. E di questi scarichi ce ne sono numerosi. Il problema è che dov'è l'omissione, secondo l'articolo 40 del codice penale, da parte del sindaco? Che non sono segnalati, non ha tutelato, non ha fatto nulla per tutelare la salute pubblica. Questi scarichi vanno tutti quanti segnalati e ci vuole il divieto di bagnazione. Io inizialmente pensavo fosse il trigno, prima di venire a conoscenza di questo scarico. Ho presentato una denuncia alla procura di Larino e il dottor Vaccaro ha aperto immediatamente il fascicolo. Fascicolo che poi adesso è stato trasferito a Vasto. Io mi auguro che la procura di Vasto si attivi. Il caso di questo bambino vastese, secondo l'Associazione Codice Abruzzo, è l'emblema dell'emergenza ambientale che vivono le coste abruzzesi e in particolare quelle del vastese. Per Riccardo Alinovi, rappresentante vastese dell'Associazione Codice Abruzzo, serve un intervento forte delle istituzioni, non solo locali ma anche nazionali. Questa è una provocazione, queste manette a usarle, perché nella mia città chi inquina va arrestato. Questi sono dei criminali. Io voglio fare anche un appello al sindaco La Penna di dire che cosa vuole fare. E al presidente Luciano Dal Ponso. Oggi è finita la compagna elettorale, caro presidente. Lei ha detto che vuole ripartire dall'Abruzzo per il turismo. Allora inizia a ripartire da Vasto. Ci dica cosa vuole fare. Noi abbiamo bisogno, un SOS, sia come il genitore, perché io non posso portare il mio figlio al mare con la paura. E questo non è terrorismo, è un dato oggettivo che possa essere infettato. Andrò avanti in questa battaglia, non mi fermerò perché quello che è accaduto a mio figlio non deve accadere a nessun altro bambino.